Gettare ponti non c'è sfida più nobile. È l'esultazione di Papa Francesco all'Agesca, associazione genitori scuole cattoliche, ricevuta in Vaticano a 40 anni dalla sua fondazione. Fondamentale, ricorda il Papa, costruire unione dove avanza la divisione, generare armonia quando sembra avere la meglio la logica dell'esclusione e dell'emarginazione. Ma è necessario che i genitori non si sottraggano al loro compito di guidare i figli verso un'educazione integrale e aperta ai valori cristiani, una cultura non ideologica ma chiamata a favorire l'armonia delle diversità. Sappiate fare la differenza con la qualità formativa, è l'altra indicazione di Francesco, ponendo attenzione agli ultimi, a chi è scartato, rifiutato e dimenticato. Farsi notare non per la facciata ma per coerenza educativa e soprattutto non svendendo i valori di cui si è testimoni. La scuola cattolica non deve essere un ripiego, un'alternativa insignificante tra le varie istituzioni formative. In un momento in cui la crisi economica si fa sentire pesantemente anche sulle scuole paritarie, molte delle quali sono costrette a chiudere, la tentazione dei numeri si affaccia con più insistenza e con essa quella dello scoraggiamento. Ma nonostante tutto, vi ripeto, la differenza si fa con la qualità della vostra presenza e non con la quantità di risorse che si è in grado di mettere in campo. La qualità della vostra presenza, lì, per fare i ponti. La vostra presenza, lì, per fare i ponti.